Presidente a breve prenderà il via il tesseramento. Sì, come ogni anno l'8 di dicembre si potrà cominciare a tesserarsi per l'ente carnevalesca. Sapete che con la tessera non solo si aiuta il carnevale di Fano, ma ci sono tanti benefit per gli associati e ovviamente chi ha la tessera può entrare con solo un euro al carnevale. Di conseguenza viene confermato il format dello scorso anno, ingresso a pagamento. Sì, ingresso a pagamento è stato l'anno scorso diciamo in qualche modo digerito in maniera abbastanza serena quindi sì, assolutamente confermato e vorrei sottolineare semplicemente che per agevolare la vendita del biglietto online e questo non tanto per noi quanto per evitarvi lunghe file, visto che ci sono anche le file per i controlli di sicurezza il biglietto online rimarrà lo stesso dell'anno scorso, quindi 10 euro, 7 euro, 1 euro mentre chi farà il biglietto la domenica alle casse ci sarà una maggiorazione di 2 euro escluso il biglietto ridotto per le persone comportatorie di handicap e l'euro dei bambini. Per il resto siete al lavoro serrato, carri che sono in fase ovviamente di realizzazione e anche le varie associazioni sono al lavoro. Sì, sono ormai tutti al lavoro, siamo in fermento, beh diciamo che manca poco a Natale quando manca poco a Natale manca poco anche a Carnevale. Ricordiamo le date? 9, 16, 23 febbraio. 9, 16, 23 febbraio.